Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vintis, amici di Rete 7. Sarà un bel fine settimana, nonostante tutto tenderà a migliorare. Quindi avremo un venerdì ancora con molte nuvole nella prima parte della giornata, ma senza precipitazioni. Poi sabato e domenica, bel tempo, escludiamo un po' di foschia e nebbia che magari ancora nelle prime ore della mattinata in alcune zone di pianura potrà oscurare il cielo, ma poi si dissolverà un po' di nuvole effettivamente ancora presenti nella giornata di venerdì. Tenderanno però a ripresentarsi dell'apertura del cielo tra il pomeriggio e soprattutto poi in serata. Tende quindi al miglioramento, lo ripetiamo ancora, tranquilli e per fortuna. Vediamo le temperature minime tra i 10 e i 15 gradi, le massime saranno comprese tra i 20 e i 23 gradi centigradi. Non ho altro da aggiungere, buon weekend cari amici di Rete 7 e noi ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento con le previsioni del tempo. E poi come detto sabato e domenica sarà una bella giornata e anche piuttosto mite durante il giorno, perché il sole si imporrà e viaggiamo ancora in quota su valori piuttosto miti di temperatura. Arrivederci!